Buonasera, buonasera, eccomi qua, eccomi qua, vi tocca, vi tocco, eccomi, buonasera a tutti e volevo invitare gli ospiti a prendere immediatamente le distanze da Massimo Gramellini, perché qui altro che Enrico Montesano, perché non tutti sanno che Gramellini sotto quella camicia indossa la canottiera, Gramellini sotto, ma non una canottiera qualunque, Gramellini ha la maglietta della salute della Gestapo, la maglietta della salute. Anche i nazisti hanno paura di prendere freddo e quindi questo è quello che indossa Gramellini. Potrebbe anche quell'arra, se ci pensano, questo potrebbe essere. No, ma io posso dire a sua discolpa, a sua discolpa, Gramellini non l'ha fatta apposta a indossarle perché è un po' distratto, un po' confuso, è un po' dissociato, ma c'è chi sta peggio di lei, Gramellini. Infatti questa settimana su Twitter, fatto vero, il Ministro della Cultura San Giuliano si è risposto da solo a un suo tweet, fatto vero, dicendosi condivido le sue parole. Ma gli è partito il colo. Ok, no, c'è la notizia, il Ministro San Giuliano è d'accordo con se stesso, è già qualcosa, comunque poi il tweet è stato rimosso dal Ministro San Giuliano, il quale ha rimproverato il Ministro San Giuliano, gli aveva risposto al Ministro San Giuliano, al che il Ministro San Giuliano ha chiesto scuse al Ministro San Giuliano, il quale ha accettato le scuse del Ministro San Giuliano, ma ha detto che se dovesse ricapitare andrà a farsi visitare da uno bravo. Ed ora però veniamo al motivo per cui sono qui, cioè la rubrica che tutti stavano aspettando per cambiare canale, la mia classifica, prego dalla regia. Finalmente una ventata fresca in questo programma. La classifica di questa settimana è dedicata alle cinque crisi diplomatiche del governo Meloni, perché dopo la crisi con l'Europa sul tema dei emigranti è abbastanza chiaro che questo governo non è proprio capacissimo, diciamo così, in diplomazia e in politica estera. E siamo soltanto all'inizio, quindi vediamo adesso quali saranno le più probabili crisi diplomatiche del governo Meloni. Al quinto posto abbiamo una crisi diplomatica con la Cina. Sì, perché questa settimana a Bali Giorgia Meloni ha incontrato Xi Jinping, il quale l'ha invitata a visitare la Cina, e in Cina Giorgia Meloni quando andrà, oltre a una delegazione di tate per sua figlia, si porterà dietro il sottosegretario alla salute Gemmato, quello che questa settimana ha messo in dubbio gli effetti del vaccino anti-Covid. Sottosegretario Gemmato, il quale arrivato in Cina, negherà che lì vi siano stati morti per Covid, perché non si è mai visto il funerale di un cinese. Al quarto posto invece abbiamo una crisi diplomatica con la Libia. La crisi diplomatica con la Libia sarà creata dallo stesso uomo che ha creato la crisi diplomatica con la Francia, cioè Matteo Salvini, il quale twitterà che i missili che hanno colpito questa settimana la Polonia erano libici, i quali ci vogliono invadere non solo con i barconi adesso, pure con i missili. E al terzo posto c'è una crisi diplomatica con il Qatar, dove questa settimana cominceranno i mondiali di calcio. Il presidente del senato Ignazio Larussa dirà che siccome l'Italia non si è qualificata, lui a questi mondiali non ti farà per nessuno, un po' come il 25 aprile. Al secondo posto invece avremo una crisi diplomatica con gli alieni. Ebbene, gli alieni esistono e a scoprirli sarà Giorgia Meloni perché il suo governo riuscirà a fare pasticci persino nello spazio. Giorgia Meloni infatti accuserà gli UFO di essere dischi volanti ONG che portano marziani irregolari in Italia e suo cognato, il ministro per la sovranità alimentare, dirà che i cerchi nel grano rovinano il nostro raccolto. Ma al primo posto fra le crisi diplomatiche del governo Meloni non può mancare ovviamente un grande classico, la crisi con la Francia, un grande classico nonostante infatti questa settimana il presidente Mattarella abbia provato a metterci una pezza e Macron ha accusato Giorgia Meloni di avergli fregato i Rolex, mentre Giorgia Meloni ha accusato Macron di avergli rubato le borsette. A questo punto i due se la vedranno in tribunale il quale dovrà decidere sull'affidamento dei migranti. Ed ora prima di salutarvi una precisazione, una doverosa precisazione, questa settimana infatti si è diffusa la notizia che Massimo Gramellini stesse male. No, non stava male, è così al naturale. Ora vorrei tranquillizzare le vecchie all'ascolto che tengono tanto a Massimo Gramellini. Ecco come vedete il vostro amato conduttore sta bene, ma vi mostro proprio una foto di questa settimana, prego dalla regia. Una foto che ritrae Massimo Gramellini, eccolo qui, mentre risponde alle lettere delle sue fan. Delle sue fan che essendo tutte delle vecchie scrivono ancora le lettere con la carta, lettere focose, perché le vecchie scrivono a Gramellini cose del tipo ho perso la dentiera per te, io vado a letto nuda con solo due gocce di naftalina, voglio farti vedovo, cose proprio con un certo trasporto. Inoltre queste fan mandano, lo vedete nella foto, a Gramellini anche dei regali, lì vedete per esempio un telefono da bambini, perché per le vecchie Gramellini è un po' come un nipote, un orologio a cucuco e Gramellini si è messo al polso invece che al muro, perché vabbè è un po' rimbambito, sono così. E poi hanno regalato, c'è stata una vecchia che gli ha regalato a Gramellini proprio una maglietta con la sua faccia stampata sopra, così da stargli sempre vicino. Insomma, viva Massimo Gramellini che fa ancora battere forte il cuore delle vecchie, praticamente un defibrillatore. Complimenti Massimo Gramellini, complimenti. Ti applaudo, non si sa. Applauso delle vecchie, applauso delle vecchie. Grazie a tutti.